Vi invito a scoprire il mondo dell'alta formazione artistica e musicale, il mondo della bellezza dalle mille facce. Io ho studiato qui, dove si lavora ogni giorno per formare talenti e laureare i professionisti del futuro. Accademie, istituti, conservatori, qui batte il cuore multiforme della cultura italiana. AFAM, la bellezza del futuro è poliedrica. Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Grazie a tutti.